Archiviato il 2022, la Nista Rugby è pronta ad un 2023 ricco di progetti, impegno e passione. Tra bilancio dell'anno appena trascorso e proponimenti per quello che inizia, il direttore sportivo Andrea Logelso sfoglia il calendario dei prossimi mesi e inizia la sua disamina con un macigno che ha condizionato non positivamente la parte iniziale della stagione sportiva. Quest'anno festeggiamo il nostro quindicesimo anno di attività consecutiva, dichiara Logelso, e al centro di quest'anno doveva esserci il Tomaselli con un imbiando polivalente di ultima generazione, casa del rugby e del calcio. Purtroppo così non è stato. Intanto è doveroso ringraziare l'ex sindaco Ruvolo e la sua giunta che non esitarono a credere al nostro progetto e all'ex presidente regionale della FIRO Razio Arancio. Ben sei anni sono passati tra polemiche, problemi e impedimenti e ben due volte sempre noi e la Federazione Italiana Rugby siamo usciti a salvare questo finanziamento a fondo perduto. Mi preme lo stesso comunque ringraziare questa amministrazione e la persona del sindaco Gambino, dell'assessore Caracaosi e dell'ufficio tecnico che nonostante tutto hanno portato a termine il progetto e consegnato il campo alla città. Sarà un anno difficile dove continueremo la nostra attività cercando di progettare la stagione agonistica 2003-2024, dichiara Logelso. Per fare questo però abbiamo bisogno di stabilità indesa come location e logistica, una stabilità che solo l'amministrazione può darci. La nostra missione è quella di far crescere bambini e bambine che passano a dare domani un contributo alla città di Caltanissetta. Quest'anno abbiamo anche iniziato un nuovo progetto dedicato ai piccolissimi Under 5 e 7. Nista Rugby Kids è un progetto in cui crediamo tanto e che stiamo portando avanti con enorme passione. Gli indizi di far bene sono le tante famiglie che ci hanno affidato i loro bambini. Il progetto è quello di svolgere attività per i piccoli in uno spazio adeguato come quello del palazzetto Palamilan che ci permette di poter lavorare in enorme sicurezza.